Alziamoci in piedi, dai! E noi dedichiamo questa canzone. 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 numero uno. numero uno. numero... 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 Numero sette! Quanti concorrenti su uno sale? 9? 10! Grazie Numero? 7! Número? 8! Punto tagliato Numero? 2! Tagliato Numero? 4! Tagliato Tagliato Allora questi impieghi di fronte qua, se si possono spostare per favore Numero? 3! 3! Vai! Numero? Aspetta Zing! Cairo! numero 9 andiate numero Numero 10. Faiere. Numero 3. Faiere. numero 6 vai numero 2 numero 5 numero Número 4